Grazie 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 che scribe di madre, perché non ha nessuna possibilità se non è un macosante, un macosante che sta per l'attra e quindi cambiamo il tema, che so che so quanto hai che tenere la violenza che si sta perdendo via, non moche e bro, è il sogno Vamo e venga, baccarà venga, baccarà vieni dice che è delizio qui dice che è delizio qui va bene va bene va bene va bene va bene Grazie a tutti 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 Grazie a tutti